Si vota tra un po' di giorni qui a Milano? Che idea ti sei fatto? Guarda, non me la chiedere perché sennò li insulto tutti. No, vuoi insultare. Lascia stare. Si vota? Sì. Per chi vota? Beh, non posso dire io. Sala o l'Expo qui? Vi siete diventati più ricchi? Sono arrivati i soldi dell'Expo a Piazza Prealpi? Non sono proprio arrivati niente, guarda. Vi hanno tagliati fuori? Zero proprio. Si vota? Chi vota? Io non voto a nessuno. Perché non mi interessa niente di quei quattro ladri. Per Forza Italia io, però non mi ricordo il nome, ce l'ho qui. Con Grillo stavolta. Non c'è niente di male. Vediamo un attimino come va. Sinceramente Grillo. Io sono di Berlusconi. Commessa vinta, mi devi un caffè, scherzo. Lo ferò volentieri. Dicevano che coi soldi dell'Expo riqualificavano le periferie. No, no. Adesso sono un po' perplesso perché la sinistra non c'è più. No, potessero andare tutti a fare la fame come fanno la fame gli italiani oggi. Dove sei? Io sono di Crotone. Le posso garantire che il voto a Milano è giusto che viene effettuato, ma sperando che non torna più la sinistra i modelli come Bisabia che ci hanno rovinato cinque anni di vita. Però l'Expo diceva portava soldi, portava benessere. Ha portato benessere a chi doveva portare benessere. Di dove è lei? Io, di Calabrese. Di dove? Eh, di Rossano Calabro. Rossano, bellissima Rossano. Che mi dice? Guarda, intervista alle donne, va. Per chi vota? Silvio? No, non voto nessuno. Grillo? Nessuno. Senta, i soldi dell'Expo gli avete visti? Sì, col cavolo. Sala, Grillo, Parigi. Sono in stand-by. Renzi no. Renzi no, non le piace? No. Lo sterei per sala. Perché? Ma lo so, come un nome che mi è venuto in mezzo. Mi ricordo un calciatore. Però Renzi non mi piace. Perché? Preferisco Berlusconi. Silvio? Certo, il vecchio Silvio. Mi metterebbe le cose a posto. Non potrei per nessuno perché sono più uguali. I soldi dell'Expo sono arrivati in piazza Prealpi. Non è arrivato niente. L'altro giorno c'era, sotto quella casa, c'era un quintale, due quintali, dieci quintali di spazzatura. Grillo deve andare a fare il comico. Matteo? Renzi? Matteo è uno che lavora per le banche, è un potente. L'Expo, l'Expo l'avete vista? I miliardi dell'Expo dove sono andati? Qualcuno sicuro in tasca si sono andati. Non lo è messo in tasca. Non vi piace Renzi? Non mi piace, deve morire. Governo di Milano, di Milano. No, no, del PD. Ok, per l'Isala? Uno ce n'è, dai. Io per Berlusconi. Grande Silvio. Però ci manca un po'. Eh vabbè, almeno so che lui mi fa aumentare. E Matteo Salvini? Vabbè, è un bel figo ma non ci sta. E Matteo Renzi? No, mi piace. Per chi voti al sindaco? Niente. Ci auguriamo che vinca Parisi. L'unica soluzione. Per chi votate? Io voto... Destra, destra, destra. La destra. È un disonore. No, noi votiamo... E Matteo Renzi? No, assolutissimamente. Proprio devo andare via. Perché che ha fatto? Male ha fatto. Perché non ha fatto quello che diceva. Non ha mantenuto. Diciamo che lui è più per gli esteri comunitari che tanto per gli italiani. Renzi un po' ha rinnovato. Renzi? Ma io spero che si scentri in macchina oggi che... Si deve scentrare in macchina. Proprio lui. Silvio? Silvio, alla fine, che piaccia o no, è l'ultimo vero presidente. Che hai sbagliato, sbagliato, è stato votato. Però faceva i cavoli suoi. No. A questo invece che va a sciare con l'aereo di Stato? No. Voto Grillo. Sala, io per Sala. Lei? Sala. Lei? Sala. Ok. Almeno qualche voto ce l'ha. Io ho D'Antonio, ho D'Antonio e Cibolla. Sala, Sala, Grillo, Parisi. Ma chi è qui? Non posso votare. Per questioni di giustizia? Bravo, bravo. Che è successo nella vita? No, sono nato sfortunato. Hai fatto qualcosa di grave? No, sono a nascere, non dovevo nascere. Grazie a tutti.